Il giudice sportivo nel comunicato ufficiale di Ramato nella giornata di ieri ha squalificato per una giornata il difensore Antonio Di Martino dopo l'espulsione per doppia munizione rimediata domenica scorsa contro il Sant'Omaso. Il difensore domina uno della battipagliese quindi salterà il derby di Agropoli. Semplice munizione con diffida invece per il direttore sportivo Carmine Guariglia allontanato dalla panchina durante il match con gli Irpini di domenica scorsa.